ciao a tutti allora come si può decorare un qualcosa cioè velocemente è un'idea che si può fare non so facciamo delle foglioline del genere non devono essere uguali una un po più grosso uno un po più piccola da come vi sembra più bello fate come volete infatti questa la farò più grande anzi ma vado a unire con questa una cosa del genere ovviamente su una superficie non so su una scatola bisogna vedere un attimo come disporre sul sul nostro piano allora il coltello andiamo a fare questi tali qua tutti i 3 diciamo i triangoli che sono presenti bisogna eliminarli sono molto scomode perché il pezzettino su quale sto lavorando il picco è molto piccolo ciò bisogna fare parecchia attenzione ricordiamoci di mettere le mani sul piano sul secondo piano mai davanti qua abbiamo il nodo però non è un problema perché la sgorbia taglia ora bisogna controllare che sia affilata qui possiamo fare semplicemente una cosa del genere siccome è un pezzettino di prova va benissimo questo Grazie. 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 allora ho visto che non si riesce a fare in meno di 12 minuti allora mi tocca tagliare eventualmente cioè non tagliare ma condividerlo in più più parti qui possiamo fare come se fosse questa termina qua per dividere un po queste quali diamo una piegatura un po in dentro ogni foglietta la possiamo fare in qualsiasi modo perché questo non è un fiore in sé questa è una è una creatività da una cosa facciamo cioè da un fiore facciamo una cosa diciamo più più complicata più complessa con le forme diverse allora qua posso fare pure così sì 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 qui la faccio girare da questa parte ovvio questo lavoro qua bisogna fare con calma salvo guardando bene tutti i dettagli particolari ok facciamo da questa parte facciamo da questa parte ok abbiamo ottenuto una grezza forma del genere ora con angolare se andiamo dentro a fare qualche segno in una maniera diversa non tutti uguali così vi faccio vedere cosa si può ottenere con un intaglio del genere perché spesso non viene a nessuno di fare un qualcosa così buttare lì e vedere cosa viene uno cerca già di fare quello che ha in testa grazie a tutti 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 grazie a tutti